Il governo per proteggiare l'emergenza coronavirus, nel decreto firmato dal premier Conte c'è la sospensione in tutto il paese di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura e in qualsiasi luogo, compresi spettacoli al cinema e al teatro. Purtroppo, purtroppo il debutto è saltato. Stai calmo, abbia un po' di pazienza perché tanto andrà tutto bene, lo dicono tutti che andrà tutto bene, no? La vita è una merda. La tua. Ma se ne parla un di male. Cosa? Il sesso, per esempio. Ma che è chiuso? Puoi rifarmi la domanda? Scusate, adesso mi sentono, eh? E non potete spegnere questa roba, qua c'è gente che lavora! Ciao papà, sono incinta. Aspetto un bambino. Io lavoro! Ci ho perso la vita! La punizione sarà in mezzo a un'occhio. Giorgio, mi meraviglia di te, non sarai mica uno di quelli che credono che esista veramente un virus che prima era nel pipistrello, poi qualcuno ha mangiato il pipistrello, eh? Cioè, tu non ti ricordi cosa hai fatto o non fatto con una ragazzina di 21 anni? Non solo virus e batteri, quelli che ci fanno stare male, no? Piuttosto una compagna che ci tradisce. Giorgio, devi smetterla di parlare di cose che non capisci, ok? È un momento difficile, per tutti. La quarantena è come la pacchia, primo o poi finisce.